scoppia il gossip nell'aria con l'ospitata di gianna nannini da mara venier a domenica in la cantante è apparsa per presentare il suo nuovo album e ha fatto parlare di sé con una risposta inaspettata che ha sconvolto la conduttrice e il pubblico durante l'intervista nannini ha dato spazio a ricordi progetti futuri e alla sua famiglia ma a un certo punto ha perso la pazienza causando un momento di imbarazzo la situazione è stata sbloccata da venier con una battuta permettendo di completare l'intervista con successo nonostante il piccolo imprevisto nannini ha continuato a parlare del suo nuovo album sottolineando l'importanza della passione nel suo lavoro e il lungo processo di creazione delle sue nuove canzoni la cantante ha anche scherzato sulla sua età ribadendo il suo stile unico e vintage